Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni. Ci deve essere un piccolo blackout su Vigilio. È già successo qualche giorno fa per colpa di un hacker. E io mi sono bloccato sulla messaggistica. Mi scuso con i blogger se sono in ritardo nel rispondere ai loro scritti. Allora, piuttosto che star fermo, ho detto e diamo un'occhiata a quello che mi manda l'amico Guido Mencari. Guido Mencari, vedete? Guido Mencari, un simpatico studente universitario dell'Università e della Facoltà di Scienze delle Comunicazioni dell'Università degli Studi di Bologna. È studente con la professoressa Giovanna Cosenza. Andate a digitare voi il nome Giovanna Cosenza, va bene? E che mi scrive, come mi conosce, Guido Mencari, scusami caro, non so se ti chiami Mencari o Mencari, scusami. Di me si potrebbe dire massoni o massoni, non lo so. Guido Mencari mi informa, mi manda in pratica uno scritto apparso sul Fatto Quotidiano del 14 ottobre. Il Fatto Quotidiano, sapete cos'è, no? Un nuovo quotidiano che ha come direttori Marco Travaglio e anche qualcun altro, Padellaro e vi di seguito, mi dice che, il Fatto Quotidiano dice che la casa editrice Mondadori, che è di Mediaset, Fininvest e di Silvio Berlusconi, ha rifiutato, dopo aver pubblicato tutti i libri di José Saramago, però ha rifiutato uno degli ultimi scritti che è intitolato Quaderno, o Caderno, o Caderno, perché lì Saramago spara a zero contro Silvio Berlusconi. Sembra che dica addirittura che Berlusconi è un delinquente. Allora, la casa editrice Mondadori, che è di Berlusconi, non l'ha voluto pubblicare, cioè la casa editrice Inaudi, che è della Mondadori, e la Mondadori è di Berlusconi, non l'ha pubblicato questo o Caderno di José Saramago, perché è una raccolta di scritti dello scrittore apparsi sul suo blog e negli ultimi tempi José Saramago ha dato del delinquente a Berlusconi, non gliel'ha pubblicato. Ma sentite come vanno le cose in patriarcato. Adesso vi salta fuori pure Rizzoli e Eugenio Scalfari. Ma dite voi, secondo voi ha attaccato il popolo italiano, conosce di più gli attacchi di José Saramago contro Silvio Berlusconi o conosce di più gli attacchi di Eugenio Scalfari e della Repubblica contro Berlusconi? Io gli attacchi di José Saramago non li avevo mai noti, non li avevo mai notati perché erano attacchi fatti in portoghese, ma noi gli attacchi di Eugenio Scalfari contro Berlusconi li conosciamo tutti i giorni, che polemiche, che polemiche, che polemiche dall'infedelia, d'anno zero, da parte del quotidiano La Repubblica, e gli editoriali di Eugenio Scalfari. Però cosa salta fuori? Cosa salta fuori? Salta fuori la famosa fiaba dei ladri di Brema. I ladri di Brema, Brema, Brema. E dove lì il novelliere dice che questi simpatici ladri di giorno si davano un sacco di botte, però di notte andavano a rubare insieme. Pensate voi in patriarcato che succede? che si può fare il doppio, il doppio, triplo, quadruplo e via di seguito. E l'erizzoli, alias il Corriere della Sera, che diciamo è in mano ad Alain Elkan, Elkan, una volta Agnelli, oggi Elkan, c'è una feroce guerra in corso tra il direttore del Corriere della Sera il direttore del Corriere della Sera e Eugenio Scalfari. L'avete vista voi anche, no? Nell'ultima trasmissione L'Infedete di lunedì sera lo scontro tra Ferruccio De Bartoli e Eugenio Scalfari. Perché Ferruccio De Bartoli scrive oggi sul Corriere della Sera oggi, oggi, oggi è scritto, è pagina 14 di mercoledì 14 ottobre 2009 scrive Ferruccio De Bartoli direttore del Corriere della Sera lo stesso Caimano Caimano sarebbe il nome che il quotidiano della Repubblica ha dato al Premier lo stesso Caimano come ho avuto modo di dire lui di sera all'infedele di Gat Lerner lo stesso Caimano al quale lui cioè Eugenio Scalfari e il grande editore Carlo Caracciolo resero visita ad Arcore per chiedergli di comprare una quota della loro casa editrice cioè dice Ferruccio Bartoli ha ricordato nel corso della trasmissione L'Infedele che tanti anni fa il defunto ormai defunto compianto Carlo Caracciolo e Eugenio Scalfari andarono insieme ad Arcore per chiedere al Caimano alias Berlusconi di comprare una quota del gruppo editoriale dell'Espresso e della Repubblica e l'editore cioè il Premier disse di no poi nel corso della trasmissione Scalfari l'ha negato questo episodio però Federeco Falonieri che è l'amico di Berlusconi presente alla trasmissione invece ha detto no no è vero ma comunque non ha importanza che sia vero o non è vero non ha importanza è stato detto pubblicamente qualcosa di vero ci sarà ma che cosa di più vero c'è che non il fatto che Eugenio Scalfari spari a zero tutti i giorni spari da tanto tempo ormai contro il Premier e che fa poi non fa forza a pubblicare a pubblicare i suoi libri per il Premier proprio per quella casa editrice Einaudi e però guarda caso a Eugenio Scalfari e l'Einaudi non gliel'ha pubblicata no a Eugenio Scalfari la casa editrice Einaudi non gliel'ha rifiutata i libri da pubblicare andate a vedere voi i libri di Eugenio Scalfari sono dei Einaudi e Einaudi non è più una casa indipendente di sinistra come era una volta è stata comprata da Mondadori e infatti qua c'è la questione di José Saramago dal quale vengono rifiutati i suoi quaderni perché nei quaderni scrive che il Premier è un delinquente ma Eugenio Scalfari non avrà mai usato la parola delinquente ma forse ha usato di peggio contro il Premier eppure Eugenio Scalfari pubblica per Mondadori proprio per Iinaudi andate voi a capire come vanno le cose a questo mondo ditemelo voi ditemelo tutti i suoi libri chissà perché Eugenio Scalfari che ha tante case editrici cui rivolgersi ce n'ha tante 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 ce n'ha ce n'ha tante le fa proprio pubblicare dal Premier ditemelo voi poi mi hanno detto che una figlia di Eugenio Scalfari lavora per Mediaset e vabbè che volete che vi dica io cosa volete che vi dica e se uno detiene famiglia si deve piegare a qualche compromesso va bene va bene cari amici queste sono le storie della vita e in patracatto quello che conta ah poi tra l'altro volevo dirvi che appunto c'era il principe Caraccelo uno dei proprietari la proprietà stava in mano della Repubblica dell'Espresso stava in mano un principe stava in mano un principe Carlo Caraccelo compianto perché gli ha compiato ma non un principe perché un uomo di sinistra come Eugenio Scalfari uno di sinistra che sta vicino al popolo se la fa con i principi e i principi hanno il denaro se vogliono fondare un giornale i principi fanno i conti sono di più i ricchi o i poveri risposta sono di più i poveri ergo ci possono essere più acquirenti di un giornale tra i poveri che non tra i ricchi e se noi facciamo un giornale di opposizione i ricchi sono in pochi quelli che lo comprano perché sono tanti i poveri lo comprano i poveri e chi se ne frega e chi se ne frega tanto la proprietà privata non la tocca nessuno perché è difesa dalla carta costituzionale a lei giù il principe le fa un bel quotidiano lo mette in mano a Eugenio Scalfari a lei botte da Orbi a Premier però poi guarda caso Eugenio Scalfari va a pubblicare i suoi libri da mondatori cioè da segno Berlusconi e segno Berlusconi non gliel'ha mai negati le capite voi queste cose cari amici? va bene io saluto l'amico Guido Mencari che mi ha dato questa bella veramente bella notizia e ricordatevi che io per il fatto di aver detto queste cose nel passato in un video mi pare Eugenio Scalfari santo subito non mi ricordo mi presi pure Massoni lei è un cretino va bene cari amici grazie se mi avete ascoltato e a tutti voi tanti saluti da Sera Vino Massoni grazie a tutti